Sono stati consegnati ai cittadini ucraini di Drogovic i beni di prima necessità inviati da Cortone. La situazione sempre più critica dell'Ucraina ci invita a rimanere vicini alle popolazioni di questo paese che stanno vivendo un vero momento drammatico. La solidarietà di Cortone è sempre molto forte e continua. Infatti presso il centro di raccolta a Sant'Antonio continuano ad arrivare donazioni da parte dei nostri concittadini e non solo. Siamo tutti attenti a questa guerra che continua a mettere vittime e dobbiamo aggiungere che gli ucraini che riescono a fuggire dalla loro terra sono sempre un numero crescente anche in Calabria. I beni di prima necessità medicinali, mascherine e tutto ciò che serve al popolo ucraino è un sentimento anche di vicinanza ma anche di condivisione del loro dolore. Con Don Vassil ringrazia i crotonesi e non solo tutte quelle persone che ogni giorno si recano al centro raccolta portando il loro contributo perché in Ucraina arrivi tutto quel materiale che serve. In particolare, ripetiamo, i beni di prima necessità a lunga scadenza perché si apra nel cuore di questo popolo la speranza sapendo di non essere soli. Tanti bimbi che stanno vivendo questo momento drammatico, quelli arrivati a Crotone, al momento non sono molti e proprio grazie alla solidarietà che ricevono combattono la loro battaglia. Continuiamo a stare loro vicini, continuiamo a dare il nostro contributo con semplicità e con amore perché il bene vince sul male e noi dobbiamo essere per loro il seme della speranza.